salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi volevo parlarvi della mia esperienza negativa che ho avuto con vodafone fwa che ha portato a queste ma andiamo con ordine e poi arriviamo a parlare di loro allora esattamente il 17 giugno ho fatto la richiesta di attivazione online della linea vodafone fwa quindi ho compilato tutto il necessario per avere l'attivazione il sistema mi ha detto che dovevo scegliere per forza il modem con l'antenna esterna ok quindi ho selezionato quel prodotto perché era l'unico disponibile e quando si sceglie quel prodotto non vi arriva a casa il modem e l'antenna perché è il tecnico che deve venire ad installarla essendo un'antenna esterna va fissata appunto all'esterno dell'abitazione quindi tutto ok dopodiché sono arrivati i vari messaggi che la mia pratica diciamo era stata attivata dopo qualche giorno mi è arrivato il messaggio che era stata inviata la sim che quella che poi avrei dovuto dare al tecnico da inserire appunto nel modem che il tecnico avrebbe portato quindi dopo qualche giorno una settimana circa è arrivato il corriere che mi ha portato la sim dopodiché una volta che ho ricevuto la sim mi è arrivato il messaggio che nel giro di qualche giorno mi avrebbe contattato il tecnico chi per esso per prendere un appuntamento per quando il tecnico sarebbe potuto venire a fare l'installazione sono passati giorni giorni e giorni e non mi ha chiamato praticamente nessuno dopodiché sono partito per il mare perché siamo già arrivati dal 17 di giugno quando ho fatto la richiesta di attivazione siamo arrivati alla prima settimana di luglio sono partito per il mare e niente non si è saputo più niente poi il giorno che sono tornato dal mare mi ricordo che stavo tornando ero in strada mi suona il telefono era 190 al numero che mi stava chiamando quindi ho detto cacchio vodafone dai mi ero quasi dimenticato che ho fatto la richiesta di attivazione quindi l'operatore mi dice ma abbiamo visto che aveva una pratica attiva ma ci sono stati dei problemi vabbè non ho capito di che tipo vuole continuare comunque la procedura installazione faccio sì siete voi che non vi siete fatti più sentire quindi mi diceva bene e fa partire la nuova pratica fa partire la nuova pratica nel giro di 4 5 giorni mi arriva un'altra sim perché quell'altra è finita in una pratica che praticamente non è più esistita allora mi arriva la nuova sim mi arriva ancora il messaggio che nel giro di qualche giorno mi avrebbe contattato il tecnico ma stavolta il tecnico mi ha contattato non lui direttamente ma diciamo un operatore che mi ha dato le date disponibili con gli orari disponibili in cui il tecnico avrebbe potuto venire dicendomi che c'erano un po' di problemi perché era il periodo che comunque c'era un po' di covid in italia l'estate scorsa in quel periodo in cui erano aumentati tanti i contagi quindi avevano pochi tecnici quindi erano poche le date e gli orari quindi ho scelto una data e un orario ho preso mezza giornata di ferie dal mio lavoro vero che ovviamente non è lo youtuber che è una passione non è un lavoro quindi ho preso mezza giornata di ferie per appunto seguire il tecnico che sarebbe dovuto venire ad installare l'antenna all'esterno della mia abitazione quindi il tecnico arriva quel giorno perché ovviamente la fascia di orario non è precisa è abbastanza ampia quindi io mi sono preso mezza giornata di ferie il tecnico è finalmente arrivato quindi tutto contento detto vai che forse la volta buona che riusciamo a mettere staccavoli di fwa ma invece no il tecnico inizia a girarsi intorno no ma qua no ma qua non posso bucare no ma qui no ma lì non prende no ma lì non posso fissarla è stato un calvario incredibile poi erano quei giorni in cui faceva veramente quel caldo assurdo anche qua al nord quando c'erano 40 gradi all'ombra quindi il tecnico probabilmente non aveva voglia di mettersi a fare una cosa troppo impegnativa quindi morale della favola due ore a girarsi in giro e alla fine mi dice e no qua questa abitazione non possiamo mettere l'antenna esterna perché non c'è la possibilità di metterlo ho detto ok sei tu il tecnico saprai tu quello che è meglio per fare o non fare quindi diciamo che non è possibile fare questo tipo di installazione qua lui mi dice sì non è possibile quindi annullo la richiesta annullo tutto annullo la sim quindi ho preso metà giornata di fede per niente sono stato qua più di due ore a seguire il tecnico avanti indietro per niente quando alla fine mi trovava ancora appunto a capo senza la mia linea fvh avevo richiesto il tecnico ovviamente se ne va dopodiché non ho saputo più niente mi è arrivata l'email che l'attivazione non era stata possibile che il tecnico aveva appunto trovato dei problemi nell'installazione nel posizionare l'antenna e via dicendo quindi non si era potuta fare questa installazione ho detto vabbè amen allora a quel punto mi sono rivolto a un altro operatore di cui ho fatto un video che è wind e ben venga mi sono preso il mio modem mi sono messo l'antenna fuori da solo mi sono fatto tutto da solo e funziona benissimo infatti ho fatto un video dedicato perché il servizio almeno fino ad oggi è davvero davvero buono ma adesso arriviamo a parlare di loro cosa vuol dire che dopo che sono passati giorni e giorni mi è arrivata questa bellissima fattura di vodafone di una cifra non alta è perché comunque sono 13 euro e 20 però di un qualcosa che non mi hanno mai attivato quindi l'ho ignorata perché ho detto che cavoli non mi ha attivato niente non ho usato la rete fwa neanche per un minuto e mi mandi una fattura ho detto la ignoro dopodiché ho ignorato la prima che è arrivata di carta hanno iniziato arrivare quelle via mail dopodiché sono arrivate le email da selecta che poi l'agenzia di riscossione a cui si appoggia vodafone che subito ho ignorato anche quelle perché ho detto ma che cavoli ho preso mezza giornata di ferie buttata via ho buttato via due ore a seguire il tecnico non mi avete mai attivato il servizio cioè è andata male dall'inizio questa richiesta di rete fwa e adesso devo ancora sbattermi io a segnalare il fatto che mi state chiedendo di pagare qualcosa che non mi avete mai attivato quindi ho ignorato la prima ignorato tutto alla fine mail su mail sempre di questa selecta dopodiché mi è arrivata la lettera di carta che è questa e dopo di che mi è arrivata la lettera di carta ma come raccomandata sempre di selecta allora dopo tutto questo ho contattato vodafone e non è stato facile parlare con un operatore vodafone non so se ci avete mai provato ma adesso c'è sempre questa voce elettronica che tenta di aiutarvi prima di passarvi un operatore ma è come parlare con un bambino di due anni cioè capisce quello che c'ha voglia quindi alla fine in un modo o nell'altro ho parlato con un operatore però non era quello giusto quindi mi passano un altro operatore mi sembra di essere una pallina ping pong alla fine wow parlo con un operatore che mi dice se segnalo il problema o meglio questa diciamo fattura che in realtà lei non dovrebbe pagare perché il servizio non è mai stato attivato ok passano un po di giorni finalmente mi arriva l'SMS che è questo con scritto che praticamente non devo niente addirittura che di un accredito di 13 euro e 20 ma in realtà non mi devono accreditare niente perché io non gli ho mai pagati questi 13 euro e 20 perché come il tecnico se ne era andato io ho bloccato quello che era la debito bancario perché sapevo che arrivavano a farmi pagare qualcosa avevo questo sentore che conoscendo gli operatori telefonici ho subito bloccato ovviamente il pagamento automatico in banca perché comunque avevo già il presentimento e ho fatto bene perché sono questi 13 euro 20 io li avrei pagati all'operatore ma ingiustamente e capisco anche che la cifra è bassa io potrei andare a pagare questi 13 ore 20 e ok tutto risolto finiva lì che poi la cifra bassa ma il principio che non sta in piedi mi hai fatto prendere mezza giornata di fere mi hai fatto buttare via due ore di tempo non mi hai dato la linea telefonica quindi ho comunque dovuto risolvere il problema in un altro modo e in più dopo tutto questo mi chiedi anche dei soldi e questo che poteva essere anche un euro ma non aveva senso darglielo perché comunque tutto è stato creato da loro il problema è stato creato sin dall'inizio da loro in ogni aspetto il tecnico che secondo me non aveva molta sbatta di impegnarsi a trapanare fare perché comunque faceva caldo quello che volete ma sicuramente non aveva voglia quindi tutto questo ha portato finalmente a questo sms che appunto mi dice che non devo niente per appunto l'attivazione fwa però continuano ad arrivarmi gli avvisi dell'agenzia di riscossione sempre di questi 13 ore 20 allora io ho contattato l'agenzia di riscossione dicendogli sì voi continuate a inviarmi degli avvisi di pagamento di qualcosa che non devo pagare che vodafone mi ha già detto che non devo pagare voi continuate è sì no ma noi non lo sappiamo vodafone non ci ha segnalato quindi sono dovuto stare ancora in ballo io più di 30 minuti per parlare con l'operatore di questa agenzia di riscossione spiegargli cos'era il problema e adesso vediamo se smettono di arrivarmi gli avvisi o meno perché sennò veramente è inquietante cosa devo fare devo richiamare vodafone per dirgli che loro stessi mi hanno inviato l'sms che non devo niente però non l'hanno segnalato cioè devo perdere ancora tempo io per qualcosa che manco mai avuto cioè assurdo se gli operatori telefonici fossero così efficienti anche a dare i loro servizi e le prestazioni dei loro servizi come sono bravi a chiedere i soldi ragazzi avremmo delle linee internet da paura in italia invece no abbiamo delle linee di merda e ci chiedono pure i soldi anche quando non dobbiamo niente perché non c'è stato attivato nessun servizio quindi ragazzi questo era solo un video per segnalarvi la mia esperienza con vodafone fwa aspetto voi nei commenti se anche voi avete avuto esperienze di questo tipo se anche voi ha avuto esperienze magari che con un altro operatore perché comunque li ritengo tutti più o meno uguali gli operatori dal punto di vista delle chiedere soldi quindi vi aspetto con le vostre esperienze le vostre idee e le vostre opinioni al riguardo quindi se questo mio video di sfogo e di informazione vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram è importante novitante prima spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale spoiler di dove vado a far volare tutti i miei droni quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimo coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao e al prossimo video